Buonasera, bentornati ad Effetto Dovino. Sono ore cruciali per il governo che ha deciso di mettere in pista le grandi riforme. Prima di tutto la giustizia, la riforma è difficile, alcune parti sono molto discusse, il Lodo Alfano, le intercettazioni. Stasera parleremo di tutto questo e anche dello scontro a tutto campo che si è creato nel paese, fra istituzioni, magistrati, politica, dentro la maggioranza, dentro l'opposizione, con l'uomo che è al centro di questa difficile partita. E' Angelino Alfano, ministro della giustizia e il più giovane ministro della giustizia della storia italiana, tra l'altro. Allora Alfano, scontro duro, sempre sulla giustizia, ma in questo periodo più che mai. Ma si possono fare le riforme in un clima così avvelenato, secondo lei? Le riforme si possono fare, si possono fare mantenendo fermo un principio che è quello per cui un governo che è lì a governare grazie al consenso ricevuto dai cittadini ha un impegno. Quello di mantenere gli impegni assunti. E non è un gioco di parole. Quando ci si candida ormai, dici chi è il candidato presidente del Consiglio perché lo scrivi sulla scheda elettorale e fai l'elenco delle cose che vuoi fare. In materia di giustizia noi abbiamo fatto un elenco chiaro quando ci siamo presentati alle elezioni e lo stiamo rispettando. Quando sono trascorsi due anni dall'avvio della legislatura abbiamo fatto molte cose importanti. Ne mancano tre e ne faremo di altre tante importanti. Anche le priorità avete rispettato perché lei sa meglio di me che la critica che vi si fa è che avete le priorità legate ad interessi particolari e non ad interessi di tutti gli italiani. E questa è la prima critica che si fa alla giustizia. Guardi, è una critica che poi patisce la smentita dell'elettorato perché se fosse vera questa critica la gente non ci voterebbe. Ci continua a votare perché si è resa conto, non perché sfogli ogni giorno la gazzetta ufficiale ma perché i fatti sono prevalenti rispetto alle opinioni che noi ci siamo insediati nel maggio del 2008. Abbiamo cominciato con il processo civile che abbiamo presentato nell'estate del 2008. È diventata legge dello Stato. A maggio, sempre del 2008, quindi nella primavera estate del 2008, noi abbiamo approvato il pacchetto di norme antimafia con le norme di contrasto alla mafia più dure dai tempi di Falcone al Ministero della Giustizia. Alcune sono entrate in vigore addirittura subito perché le abbiamo fatte per decreto. Altre sono entrate in vigore con un anno di lavoro abbastanza rapido del Parlamento nell'agosto del 2009. Morale della favola, abbiamo fatto la riforma del processo civile. Lì in Parlamento abbiamo ottenuto una serie di deleghe che dobbiamo sviluppare con i decreti e tutto tendente a velocizzare i tempi di risposta della giustizia civile. Abbiamo fatto le norme antimafia, abbiamo inasprito una serie di pene per reati veramente abominevoli come la violenza sui minori, come l'abuso nei confronti di persone che non hanno la forza di reagire, come la rapina in villa, abbiamo introdotto il reato di atti persecutori, il cosiddetto stalking. Nei primi mesi addirittura mille casi si sono verificati di fronte alle forze dell'ordine e di fronte ai magistrati. Tutto questo che ho appena citato a lei e ai nostri spettatori è già in gazzetta ufficiale, ce ne sto filosofeggiando sul futuro. Sono cose fatte. E' consuntivo, cioè si tratta di cose fatte. Aggiungo, se mi permette, e sicuramente avremo modo di dirlo ulteriormente durante la trasmissione, che a fronte della grande polemica in materia di giustizia, io ho presentato al Parlamento ben due decreti votati all'unanimità. Il settore giustizia. Ma lei sa meglio di me che fa sempre notizia il cane che morde l'uomo, l'uomo che morde il cane non il cane che morde l'uomo. E' proprio quello che stavo per dirle, cioè anche in questa trasmissione, che è una trasmissione condotta da lei mirabilmente, si patisce l'illusione ottica della polemica che sembra prevalere sulle altre cose che vanno in materia di giustizia. In realtà, quando in Parlamento sono arrivati i provvedimenti in materia di giustizia, sul processo civile io ho avuto una buona condivisione e molti articoli sono stati votati anche dallo schieramento avversario. sulle norme antimafia c'è stato un grande consenso. Sul decreto, quello che ha reso più efficiente il sistema giustizia con la digitalizzazione, con le sedi disagiati, scusi, l'unanimità. Sul decreto antiscarcerazione dei boss, perché era venuta fuori una sentenza della Cassazione che rischiava di scarcerare alcuni boss, io ho presentato il decreto all'unanimità. Attualmente, proprio mentre noi discutiamo, è stato calendarizzato il codice antimafia che terrà insieme tutte le norme antimafia degli ultimi vent'anni per rendere più snello, agevole, da consultare più rapidamente tutto l'apparato normativo antimafia. È calendarizzato per maggio e vedrà che anche lì ci sarà un grande consenso. Poi è chiaro che... Le polemiche ci sono, però bisogna dire la verità. Però nel frattempo c'è un mondo nella giustizia che cammina e va avanti. Però l'ultima polemica, molto forte, molto ampia, sui giornali, che tocca due categorie, magistrati e giornalisti, è arrivata sui giornali in maniera, diciamo, molto dura, le intercettazioni. Cioè, questo bavaglio, è stato detto, che volete mettere da una parte i magistrati, dall'altra i giornalisti. Adesso, io, prima di andare avanti, ne presento i nostri altri ospiti, gli altri, diciamo, attori del problema. Sì, ma non è nessun bavaglio. Adesso, adesso lo raccontiamo. Luca Palamara, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che rappresenta un pezzo del problema, e poi i giornalisti. Claudio Tito, che è responsabile del politico per la Repubblica, e Alessandro Sallusti, che è condirettore del giornale. Buonasera. Allora, già che il fatto che ci siete voi due in televisione insieme, mi fa molto piacere, perché è un confronto raro, non si è praticamente mai visto, e quindi noi siamo contenti di riuscire a farvi parlare serenamente su questi temi. Ora, le intercettazioni. Il problema qual è? Che si dice che questa legge che lei ha, in qualche modo, proposto, è una legge che blocca le indagini per i magistrati e mette soprattutto il bavaglio alla stampa. Cioè, la stampa non potrà più usare telefonate intercettate, atti, dei processi, per raccontare cosa accade all'opinione pubblica. Questa è la critica in campo. Ma guardi, innanzitutto, non è assolutamente veridica la critica, non è vera, poiché le intercettazioni ci sono state e ci saranno, perché sono uno strumento di indagine. E inoltre, la stampa potrà continuare a informare i cittadini sulle varie inchieste che si verificano. E questo è pacifico, assolutamente certo. Le posso chiedere prima di andare avanti. Se ne accorgeranno tutti quando entrerà in vigore, perché comunque ci saranno ancora pubblicate le notizie che riguardano le inchieste. Prima che lei ci rispondi, io però vorrei farle vedere cosa dicono i giornalisti, perché è una categoria che si è molto su questa cosa, come dire, mobilitata. Manifestazione in piazza l'altro giorno, siamo andati a vedere cosa dicono i giornalisti di questa legge. Vediamola assieme. Era Valentina Pedrini che ci raccontava, Lala, devo dire, oltransista più ostile a questa legge, naturalmente l'opinione non è uguale per tutti, ma ha ragione Travaglio. Cioè, per dare le notizie bisognerà delinquere? Guardi, il servizio è chiaramente unilaterale, nel senso che rappresenta una sola voce, quella di chi non condivide. Ed è tutto sintetizzato dalla sua prima domanda. Lei ricorda come impostò il ragionamento? È proprio nella sua domanda. Cioè, lei disse, è una legge che fa arrabbiare i magistrati, che sono 9 mila, ammesso che tutti si arrabbino per questa legge, e i giornalisti, che sono decine di migliaia. Perché? Perché è esattamente stata impostata sempre così in Italia la questione. Cioè, ci sono tre articoli della Costituzione, tre da tenere in equilibrio. Uno non è mai stato tenuto in conto, e ne parlerò infatti alla fine. Quali sono gli altri due? L'articolo 21, tant'è che lei ha intervistato il rappresentante dell'articolo 21. Diritto di esprimere il proprio pensiero, e ci mancherebbe altro. L'altro, c'è qui il capo dei magistrati italiani, il presidente dell'ANM, è l'articolo 112 della Costituzione, che dice che l'azione penale è obbligatoria, e ci mancherebbe altro. Occorre indagare sempre quando si può indagare. C'è un altro articolo. Il 15. Il 15. La privacy. Perché giustamente anche lei, che pure si rivolge a centinaia di migliaia, a centinaia di migliaia, a milioni di spettatori, non tiene in conto che c'è un'altra categoria. I cittadini. Sono 60 milioni. Voi parlate sempre, o dei magistrati, o dei giornalisti, e nessuno si è mai fatto carico di difendere quei giornalisti, che siccome sono 60 milioni, e non hanno una lobby, non hanno l'associazione articolo 15. Che cosa dice l'articolo 15? E badate bene, l'articolo 15 della Costituzione viene prima dell'articolo 21, e il legislatore costituente del 1948 non ha sorteggiato i numeri degli articoli. L'articolo 15 dice che è inviolabile il diritto alla libertà e segretezza della comunicazione personale. Cioè, cara dottoressa Merlino, nessuno può aprirle la cassetta della posta e leggere ogni giorno le sue lettere. Assolutamente. Nessuno ogni mattina si può svegliare e per scoprire... Però vede, Travaglio diceva se non si parla con i delinquenti non si viene intercettato. Mi faccia finire che il servizio era tutto contro e è durato 10 minuti. Quattro. Vabbè, però... La devo correggere. Non lo so quanto è durato con precisione, ma certamente non è durato quanto sto parlando io, c'è 30 secondi. Allora, nel momento in cui noi abbiamo un articolo della Costituzione come l'articolo 15 dobbiamo renderci conto che difendere la privacy significa non trasformare l'Italia in uno stato di polizia. Cioè, se noi mettiamo tutti gli apparati tecnologici a disposizione e intercettiamo ogni giorno dalla mattina alla sera 60 milioni di italiani, forse scopriamo qualche reato in più. Dalla mattina alla sera 24H, tutti intercettati, come vorrebbero taluni giornalisti e taluni magistrati. Qualche reato in più lo scopriremo, ma sarebbe lo stato di polizia. Scusi, sarebbe lo stato di polizia. Cioè, è sicuro che se tutti i cittadini fossero dalla mattina alla sera tutto il giorno intercettati avrebbero le forze ordine a parte spinto in chi. Però certamente ci sarebbero tutte le condizioni in causa in causa